Il verde è un colore ricorrente della città di Caimano, ma questa volta il cemento dei celebri palazzoni popolari c'entra nulla. Il fermento attorno alle strade che prendono il nome di specie floreali, quello attorno alle piazze di spaccio ritenute a ragion veduta le più floride del vecchio continente, si è affievolito. Via delle Magnole, dei Lillà, Via le Margherita, Dai e Orchidea sono costantemente coperte dalla pressione dei carabinieri. Pochi gli spiragli, poca la luce e volendosi mantenere sulle similitudini floreali, poco nutrimento per gli affari. Lo spaccio si sposta perché l'economia illegale deve riprendersi, anche sotto i colpi delle fiamme d'argento. Dunque il verde, non quello del palco verde, ma quello di un portone blindato e scorticato di una piccola corte condominiale, un market della droga in via Cairoli, nell'affollato centro storico della città, dove le case si prendono a spallate una incollata all'altra. Anche lì la luce è fioca, ma fa gioco ai pusher. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno monitorato per molte ore la zona, sapevano che la vendita di droga era ralentata, ma non ferma. Grazie all'occhio elettronico di un drone hanno sorvolato la città mappando ogni possibile rifugio per spacciatori acquirenti. Lo hanno trovato proprio nella stradina ridosso di via Garibaldi. Curioso il movimento di persone su uno dei tetti, lento e circospetto come quello di vedette attente. Così hanno concentrato gli sforzi e alle prime luci dell'alba hanno avviato il blitz circondando l'area e passando anche dai tetti. A colpire è stata l'organizzazione della piazza. Diversi locali utilizzati, lo stupefacente venduto attraverso la feritoia del portone verde è descritto appena qualche battuta fa. Il cliente chiede quantità e varietà, ne paga il prezzo infilando la banconota nella feritoia e riceve la merce. Poi via al prossimo infila, tutto in pochi secondi, non c'è tempo per i convenevoli. Per fuggire i pusher concepiscono un metodo creativo. Nella corte condominiale a diversi metri dal punto vendita una finestra al piano strada, coperta da una grata apparentemente impenetrabile. Solo dall'esterno perché nel quarto di in telaiatura c'è un piccolo varco per darsela a gambe. I carabinieri trovano negli svariati locali quattro persone, saranno denunciate tutte per spaccio di droga e ricettazione. Sequestrati 200 grammi di hashish, 100 proietti di calibro 38 special, 34 mila euro in contante e un sofisticato sistema di videosorveglianza. Gran parte del materiale rinvenuto era occultato proprio sul tetto individuato attraverso le lenti del drone. Anche i locali sono stati sequestrati, controlli di questo tipo continueranno anche nei prossimi giorni. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS